Salve a tutti, venerdì 15 gennaio, ristoratori di buona parte d'Italia aderiranno a una protesta dovuta a tutte queste chiusure, ormai non ne possono più di tutti questi continui aprire e chiudere sono veramente esasperati, non ce la fanno più, fra queste c'è anche una ragazza della nostra valle con tanti altri è Valentina Del Nevo che protesterà per poter riuscire a continuare a lavorare nel suo locale io barista, bar lovers, ghiaro di Berceto, io apro, io ho fatto la mia scelta ora tocca a voi, ragazzi più siamo e più ci facciamo sentire, vi aspettiamo, io apro sono Momi, ristoratore di Firenze e se anche tu hai un'attività è arrivato il momento di mettersi tutti insieme io il 15 gennaio apro e tu cosa farai? sono Mattia dal pub Halloween di Bologna, anche noi apriamo sono Biagio, del gruppo Leggina Margherita, io apro ciao ragazzi, sono Umberto Carriera, da Pesaro e anche io il 15 gennaio aprirò i miei ristoranti io apro, dovete farlo anche voi ciao a tutti, sono Antonio, ristoratore di Sassuolo anch'io il 15 apro, in sicurezza, venite a sostenersi sono Stefano da Viareggio, anch'io apro sono Federico da Modena, anch'io apro sono Domenico da Viareggio e anch'io apro la sveglia è suonata e noi ci stiamo alzando e te? Vorrei rimanere là? a te la scelta, noi sappiamo già cosa fare a te la scelta, noi sappiamo già Grazie.